Sono stati trattati in modo serio, in modo approfondito, il tema non è affatto un tema secondario di micchia, un tema importante, credo che anche dopo quello che ha detto il consigliere Volpe, dopo quello che è stato detto in precedenza dal direttore Magistro, credo che possiamo solo chiudere con l'auspicio di poter rincontrarci magari tra qualche mese discutendo di qualcosa di concreto, di effettivamente prospettive, riordino, mi piace questo termine, santo nella teglia, ti riordino, grazie.